Una lunghissima ora, ebbene sì signori ho deciso di buttare via nel cesso un'ora della mia vita per fare questo video nel quale se non trovo il diamante scavando dritto, proprio dritto per la mia strada, eliminerò, è molto difficile da dire quindi preparatevi, il mio mondo vanilla, sì l'ho detto. Signori se arriviamo a 100 mi piace facciamo il scavo dritto per 3 ore e se anche gli arriviamo a 100 mi piace scavo dritto per 5 ore, fino a che non scavo dritto per tutta la mia vita. Ma adesso iniziamo, e ti prego speriamo di non cancellare il mondo vanilla. Diciamo che per l'evento mi sono preparato alquanto bene, ho preso un botto di roba, onestamente proprio un botto di roba, e quindi mettiamoci la spadina, le torce ce le siamo già prese, mi sono creato anche una mini hub centrale, e scegliamo dove andare, io direi che dato che qui c'è la redstone, e la redstone porta bene, ce ne andiamo per di qua. Ora io inizierò a scavare, sarà lunga, molto lunga, posso scavare solo dritto, se trovi diamanti tipo qui a sinistra non vale, e oh mio dio se elimino il mondo per sta cosa mi metto a piangere. Detto ciò ci saranno poche parole durante questo video e più tagli e musichette strane e mega esplosioni, specialmente mega esplosioni. E niente, il livello è il livello 10, ho scelto un buon livello, potevo scegliere... C'è già la lava, bene, partiamo malissimo, sì, ci ho messo un bel posto per la lava, ok? Era malissimo amici, lasciate per forza mi piace, lasciateli anche con gli account fit, ma per basta lava, è tutta lava, voglio svigidarmi, però almeno posso fare il punticello. Ok, dell'oro ci può stare, ma ce l'ho lo spazio tanto, sì, buono, ok, ci può stare dell'oro, non male, non bene, ma non male. Ma tu sei cretino, ma lei è un cretino, se lo faccia dire, via via. Madonna, faccio sempre dei peli alla lava, madò che cagarella che mi viene, sono sicuro che questo... Uh, redstone, e dove c'è la redstone ci sono i diamanti, giusto? Giusto? Sono appena letteralmente passati 5 minuti e io mi sento già di morire, perché ho deciso di fare questa challenge, non potevo fare un video tipo Oh mio Dio, spacchetto i pacchetti dei My Little Pony, no, cioè non potevo fare una roba del genere, sì, non chiedetemi perché dei My Little Pony. No, scaviamo un'ora dritto per sempre con la mano in cancrena e il dito ormai è andato da mesi. Che palla! Il mio primo blocco di ferro? Davvero gioco? Il primo? Davvero? Non troveremo mai i diamanti, mai. Lo sappiamo sia io che te che stai guardando questo video e che avrai già lasciato un mi piace. Ora che ci penso? Ma io non voglio scavare per tre ora. Amici? Annulliamo la challenge di prima? La annulliamo? La sfida è rifiutata? Non voglio scavare per tre ore, però intanto stiamo trovando minerali. E sono passati otto minuti. Otto! Otto! No, 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 l'acqua non era prevista. No, 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 ferma tutto, stacca, stacca. Mayday, Mayday! Soldato abbattuto, soldato abbattuto! No! No! Ma basta acqua! Ma siamo finiti in mezzo all'oceano! Che cos'è quel coso di lava? Amici? Che cos'è quel coso di lava? Ehm... Cos'è quel coso... Voglio fare pausa cibo. La pausa cibo è fondamentale. Voglio ancora fare pausa cibo. Ehm... Sono finite le prime torce. Beh, non è un problema. Uh, sento della lava! Uh! E lava vuol dire diamanti, boys. Siamo vicini. Siamo vicini ed è passato solo un quarto d'ora. Ma siamo molto vicini! Siamo vicini! Ah, piccolo momento spam. Vi invito ad andarmi a seguire su Twitch perché... Ho rotto una torcia. Perché lì facciamo un botto di roba ignorante, stradivertente. E che fai? Te ne privi di seguirmi su Twitch? Eh no, che non me ne privi. Comunque stavo pensando. Cioè, in 20 minuti... Terra, che schifo. Neanche un diamante! E il mio piccolo dire di reti sta per morire! Voglio fare ancora pausa cibo. E il mio piccolo dire di reti sta per morire! Ci starò per un'altra mezz'oretta a studiare. Ho già iniziato la mezz'ora. Mmm, sì. Ok. Ciao, ciao. Continuiamo. Non ci credo. Nooo. Che gioco infame! E che diamanti infame! Gli ho trovati un blocco sotto. Che non vale. Devo trovarli tipo qua davanti. Nooo! No, basta diamanti. Ok. Devo trovarli qua diamanti. Qua diamanti, stavo dicendo. Gioco infame, mi stai sul c... Signori! È passata mezz'ora! Ah, la spalla! Però è passata mezz'ora! Oh, sì. Siamo solo a metà, però abbiamo trovato dei diamanti. Un livello sotto, letteralmente uno. Però le abbiamo trovati. Non ce la faccio più, non le troveremo mai. Fino a due diamanti in mezz'ora è uno schifo. Cioè, che vita infame. Continuiamo. Sono i lapiscazzoli. Nooo. Dannati lapiscazzoli. Mi avete fregato anche sto giro. Il mio villaggio assalto. E con soli 40 minuti di vita sprecata. Sì!